Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Trento ha fatto visita agli uffici dell'area tecnica del municipio di Arco nell'ambito dell'indagine in merito al rilascio da parte della provincia di un contributo di 1,2 milioni di euro all'associazione Via Pacis per la realizzazione della nuova sede di Via Montebaldo. Le fiamme gialle hanno solo visionato alcuni documenti senza portare via nulla, probabilmente per controllare la correttezza degli atti. La visita dei finanzieri non preoccupa il sindaco Betta, che rimane convinto della decisione presa a suo tempo dall'amministrazione comunale. L'indagine della Guardia di Finanza deriva da un esposto presentato dai consiglieri del Movimento 5 Stelle e Arcense, De Gasperi e Rullo, che giudicano eccessiva l'entità del contributo. Il sindaco Arcense spiega che la somma del contributo è stata decisa dalla provincia, mentre il comune di Arco si è limitato solamente a dichiarare l'intervento di pubblica utilità. Nei giorni scorsi il sindaco Betta si è recato nella sede dell'associazione Via Pacis per verificare di persona le attività che vengono svolte al suo interno e ha potuto constatare con piacere che vengono svolte diverse attività e anche corsi per bambini e lezioni per studenti, ai quali viene data anche la possibilità di fare i compiti nel pomeriggio dopo la scuola. Il primo cittadino poi fa sapere che presto verranno organizzati incontri aperti a tutta la popolazione e verrà stilato un programma degli eventi che verrà poi pubblicato prima dell'inaugurazione ufficiale della sede fissata all'inizio di maggio.